Don Antonio buona giornata, benvenuto di nuovo. Ciao, 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 è una bella giornata e la battuta di oggi è la serenità, cerchiamola dentro di noi, perché c'è. Beh, per sempre. Un invito a riflettere anche durante le festività. Scavate, scavate che trovate. Ciao Don. Che c'è, che c'è. Ciao, ciao Don. Buona giornata caro Don Antonio. C'è che ci stiamo tuffando dentro di noi per trovarla sta serenità. Ma c'è, c'è da qualche parte. Caro Don Antonio.